buongiorno vediamo se questo nuovo assetto da guida conosco un po' che funziona allora oggi oggi facciamo una cosa carina oggi andiamo a fare la presentazione di Altefaber ad Avola avola e comincia di Siracusa di meno mezzoretta 35-40 minuti da qua ok non è lontano però non è manco vicino nel senso che abbiamo una concezione vicino e lontano che gli amici di Milano sicuramente non intenderanno allo stesso modo però ci siamo comunque e niente andiamo la e se ti va puoi venire e puoi venire con me ti porto con me con i ragazzi andiamo a fare questa presentazione andiamo a parlare del nostro Altefaber del nostro De Andrè e quindi niente oggi oggi facciamo questo va bene sto andando a raggiungere gli altri e così procediamo verso Avola verso Avola che bello ascoltare Radio 3 non so se l'hai mai fatto ascoltare Radio 3 che ti propongo le opere liriche la musica classica concerti di pianoforte sono belle nel senso che quando soprattutto c'hai un po' di di frenesia ecco nel guidare eccetera metti Radio 3 ti passa tutto stai bene viaggi come si dice viaggi e di serenoco agliutemi e agliutemi e in agliutemi e no 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 L'ambiente era molto bene, anche la gente là in Vintadesco, in Vintadesco, non c'è niente, non c'è così. Es war super, es war schön for noi, questo concert. Grazie, grazie. Buono, che sapore ha? Organizzatore, allora sei rimasto soddisfatto? Here this is a bit of a minute, so we go. Here it is, let's go. Why do you want it? Why do you want to come? All right now, all right now, all right now, good now, all right now, all right now. All right now, all right now, we'll be right back. Grazie per la visione